Il governo di centro-destra Casomai per insodifazione di fronte al governo del centro-sinistra Adesso cominciano a capire attraverso le scelte di questo governo Che era un governo che non faceva i loro interessi E che stava sostenendo una politica neoliberista A cui i giovani cileni in primi stanno combattendo attivamente Con uno sciopero nelle scuole che va avanti da più di 4 mesi Come si prospetta il prossimo anno scolastico nella fattispecie? Il prossimo anno scolastico questi dirigenti Che dimostrano una grande maturità E stanno portando avanti come dicevo prima Delle proposte che hanno a che fare con il fatto che non ci sia lucro nell'insegnamento In Cile dopo o con lo stesso governo di Pinochet Sono nati una grande quantità di università private In cui le persone devono pagare tantissimo per poter ottenere una laurea Tante volte anche in queste università non c'è neanche un'alta qualificazione accademica Per cui queste lauree vengono assegnate quasi mai per quanto paga ogni studente Questa consapevolezza degli studenti cileni sta facendo che si chieda Che da parte del governo attuale ci sia un cambiamento Per cui si aiuti alle persone che casomai non hanno questo tipo di risorsa economica Ma che si finisca di una volta per tutta con il lucro sull'educazione Tu hai partecipato all'anniversario dell'uccisione di Salvatore Allende l'11 settembre E che cosa è accaduto sul territorio? Io sono andato al cimitero generale a Santiago del Cile Dove da sempre, questa è una tradizione, tutti gli anni le persone si riuniscono Per rendere omaggio ai tanti caduti nel momento dell'11 settembre Da parte della dittatura di Pinochet Quest'anno è stato ancora più sentito dalle altre volte E credo che uno dei messaggi politici, anche un messaggio etico molto forte Sia che questi giovani, giovani di 20-25 anni Che non avevano neanche la possibilità di vivere gli anni in cui governò Salvatore Allende Avevano nell'impegno etico e politico di Allende un esempio E continua a essere vivo nella presenza in quasi tutte le iniziative Mi ricordo che quel giorno nel cimitero parlarono a nome di tutti Parlò una giovane studentessa cilena In cui nel suo intervento il ricordo di Allende è stato molto molto sentito E anche da parte delle migliaia di persone che partecipano È stato un grandissimo personaggio dal punto di vista storico e politico Ma non si può parlare al passato Nel senso che è comunque un personaggio di un'attualità spaventosa Allende Forse va fatto conoscere anche ai giovani al di fuori del Cile oppure no? L'attualità delle proposte del governo di Allende sono di tutti i giorni Credo che in Allende si uniscono anche il fatto delle sue proposte politiche Per il benessere della maggioranza del Paese Ma unito anche alla sua conseguenza di aver dato anche la propria vita In difesa della democrazia Perché credo che sia questo l'elemento di maggior importanza Nella unione tra proposte politiche e anche la etica di una persona Che è stato conseguente con quello che aveva proposto Fin di, come dicevo prima, aver consegnato anche la sua propria esistenza Credo che sia questo l'elemento di fondo Che i giovani cileni, i giovani a livello mondiale Aviano come simbolo in agenda Soprattutto in un momento in cui la politica purtroppo Non gode di grande fama Non per motivi, per invenzione Perché molte volte i politici non sono stati in grado Di avere, non dico la conseguenza di dare la propria vita Ma che ci fosse una conseguenza tra quello che viene proposto E il loro agire anche nel quotidiano Il rappresentante di quella che si può definire la democrazia Nel senso struttura parola E del grande impegno, della grande responsabilità Tra cui quello che viene detto e quello che viene fatto E poi questa sarebbe la... Sì, credo che questo sia anche l'impegno politico A cui ognuno si dovrebbe tenere come primo motivo Del proprio impegno sul sociale Una democrazia che ha cercato, come dicevo prima Di portare il benessere agli strati più debole Certamente nel Cile è stato in quel momento E certamente che dopo la caduta di Pinochet Per fortuna si è tornato a un quadro democratico In cui le persone hanno potuto scegliere il loro Presidente I loro parlamentari Quello che credo che nel confronto sia necessario mettere in primo luogo E quello che dicevo prima E l'atteggiamento anche personale di certe persone Che quello che sostengono a livello teorico Lo fanno anche a livello pratico Grazie a tutti Grazie a tutti